All'unico, all'unico Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 ... 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 ...... 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 ... ...... ... ...... ... ... ... ...... ...... ...... sono il porteggio, sono il porteggio più federal che la valutazione della città di e io ricordo la patria e io mi ricordo che la Argentina si è concluo di tal modo che è un centro in una periferia, come se la periferia non fosse la periferia, come se la periferia viviera in una città, e qui lo sanzioniamo, toda la riqueza, todo il poder per il centro del Paese, e che vamos a fare con la resta della Argentina, perché anche, molto porteggio il governo, non si dà un punto che va a cercare la città di paz, ha accettato e se pregunta, perché abbiamo tantissime università, perché abbiamo una università in Chacabuco, o in Chisola, perché abbiamo una città, perché abbiamo una città, perché è molto difficile, che un chico di termine del paese secundario, tenga che andare in a la città, a la prata, a la città di Buenos Aires, a la città, a la città di Córdoba, in grandi centri universitari per poter studiare, perché questo significa non solo il tremendo del saidrawio che se suporta, proprio significa un coste domande per le famiglie che non lo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.